Mi chiamo Olinto Ceconello e ho avuto il piacere di andare in accademia perché ho vinto il concorso nel 1968 con il corso Grifo Terzo, corso meraviglioso che siamo ancora tutti molto legati. Io sono nato in casa a Pozzolione, Vicenza, che è un comune piccolo, 2.000 abitanti, la frazione è Friola, è vicino a Bassano del Grappa e a Marostica, che sono più note a livello nazionale. Le mie origini sono Campagna, figlio di contadini, cosa di cui sono molto orgoglioso perché ci ha insegnato la vita bella all'aria aperta, ma ci ha insegnato anche ad avere rispetto, lavorare solo perché soltanto se lavoravi mangiavi, se non lavoravi non mangiavi, oppure mangiavi meno, stavi attento, andavi allora inizio per i campi a trovare gli alberi da frutto nel periodo buono a mangiare le ciliegie, le pesche, le peri, i fichi, tutte queste cose qui. Per cui questo è quanto. Da lì ho fatto l'esame di emissione nella scuola media, scuola media-marostica, superiori a Vicenza e dopodiché, fatta la maturità, ho fatto il concorso per l'accademia aeronautica perché era venuto proprio lì a Vicenza a scuola un maggiore dell'aeronautica a farci una conferenza sulle opportunità che ci sono per gli studenti che facevano la maturità di seguire o studiare presso le accademie militari che ci sono, quella dell'esercito a Modena, quella della Marina a Livorno e poi c'è quella aeronautica che prima era a Caserta, poi si è spostata a Nisida, poi si è spostata a Puzzuoli dove ci sono andato che era nuova l'accademia perché è fatta da pochi anni e allora c'erano anche le accademie di pulizia qui al centro e i carabinieri ce l'hanno insieme con Modena per cui ho vinto il concorso, cosa bellissima, è stata una bellissima cosa della mia vita che ricordo ancora oggi con molto molto piacere perché ci ha consentito o ha consentito a me di conoscere l'elemento aeronautico, l'ambiente aeronautico che è splendido perché è l'unica professione dove tu se sballi, sballi in prima persona e per cui devi sempre dirti la verità, cioè tu vai in volo se sai come si fa a volare se conosci quella macchina, altrimenti è meglio che vai a dormire, punto, questo è il concetto generale gli anni dell'accademia, bellissimi, è fatto da tantissimi amici perché tutti quanti vanno avanti amici che poi pian piano si perdono ai reparti che purtroppo succede anche questo poi con l'età si perdono per motivi diversi però c'è un affietamento e un cameratismo che è totale e questa è la cosa bella dell'accademia finito l'accademia andavo bene, ci hanno mandato in dieci soltanto del nostro corso fa le corso in America divisi su quattro basi diverse, eravamo due per basi più o meno e io ero da solo nella mia sezione e lì un approccio con un mondo nuovo, molto diverso e tutto quanto il resto dove si è appreso una cosa importante, primo la lingua perché sono tornati a casa e si parlava l'inglese benissimo ma soprattutto tutta la fraseologia che si usa in volo cioè la fraseologia aeronautica perché io ho visto successivamente che andavo in America per esigenze della forza armata eccetera tu andavi lì e volavi tranquillamente perché anzi mi trovavo meglio lì dichiarare le cose perché io in quei termini avevo imparato non in termini nostri italiani che si usava ancora un linguaggio misto inglese italiano che non sapeva né carne né pesa, insomma questo era il concetto di base fatto il corso in America che ho volato col T-41, T-37 e T-38 sono andato in Italia e lì c'era la distinzione aircraft commander o co-pilot slot ero aircraft commander, sono andato alla Mendola dove ho conosciuto un amico comune Paolo Monti e ho fatto il passaggio col G-91 e poi da lì sono andato a Grosseto a fare il corso F-104 e sono stato assegnato al quinto stormo caccia di Rimini al ventitresimo gruppo caccia intercettore, questo è stato l'inizio della mia carriera aeronautica, sono andato a Rimini bellissimo perché se dicessi che Rimini è un posto brutto direi una bugia enorme si stava bene su tutti i due punti di vista ma erano Rimini e Ghedi le uniche due basi importanti in Italia a quel tempo. A Rimini quando sono inviato capitano mi hanno mandato a Firenze a fare la scuola di guerra aerea da capitano perché era un prequisito per essere promossi il grado di maggiore mentre ero alla scuola di guerra a Firenze nel frattempo mi è nato un figlio nel 1976 per cui abbiamo anche gli anni e mi hanno trasferito al reparto sperimentale di volo lì c'era probabilmente gli accordi intercomandanti di gruppi chiedevano chi aveva qualche pilota che poteva avere questi requisiti perché il requisito importante era di andare bene in ingegneria noi avevamo fatto come piloti rodo naviganti normale il bachelor di crisi in aeronautico e l'ingegneri cioè primo e secondo anno uguali agli ingegneri esempio Marchesca era lì con noi eccetera il terzo anno era un po misto il quarto anno era una cosa abbastanza più soft ci insegnavano un po più di diritto amministrativo perché come futuro comandante dove conosceva bene il diritto amministrativo e da lì in poi trasferito a pratica di mare stato lì sei mesi che si faceva un po un corsetto interno per capire se avevi le attitudini per diventare poi pilota col donatore e dopo mi hanno mandato in america ad edwards che è la scuola allora più importante molto difficile molto impegnativa che dura un anno intero e abbiamo fatto il master per diventare piloti color dottori sperimentatori e fly test engineer c'è questo cappello importante come come funziona cosa c'è cosa deve fare il pilota produttore sperimentatore deve prendere sostanzialmente un velivolo che non ha mai volato che esse dalla fabbrica e fare manuale di volo alla fine per dire adesso i piloti dei reparti o i piloti dell'aeroclubb piloti civili possono volarlo con tranquillità perché tutte le prove che ci avevano spiegate sono state fatte spiego brevemente come si riavvi cosa si fa io arrivato ad edwards il giorno 15 di dicembre mi ricordo ancora data nel 1977 a los angeles sono dato lì la casa tutto a posto mi hanno dato manuale del phantom manuale del kc 135 che 707 sostanzialmente il sistema volante e manuale dell'a37 il t38 l'avevo già fatto per cui ho fatto sotto il ricorrensi dice queste sono le macchine che devi preparare perché poi cominciamo a lavorare queste macchine qui mi sono guardato tutti quanti in fretta non ti guardi tutto il manuale guardavi sezione 1 sezione 2 norma possibile e la sezione 5 per l'aeronautica che sono le operating limitations limiti per sapere da non superare questa cosa qui la prima fase del corso è volta a fare tutta la calibrazione pitostatica cioè fare la validazione di tutte le prese statiche dinamiche per il volo cioè velocità quota variometro eccetera che sembra una stupidaggia però molti incidenti anche recenti successi con airbus dal brasile in italia c'è stato il bloccaggio delle prese statiche e sono andati di sotto 300 persone con tutto l'equipaggio che devo dire non era molto ben l'estratto per questo tipo di avaria fatto questo si fa pittostatic calibration in inglese da lì si fa la fase di e questa fase dura due mesi poi si fa la fase di performance cioè macchine che cambia eccetera tu fai dicono abbiamo detto l'f106 questa macchina qui che la macchina primo italiano o straniero che ho volato perché l'f106 non ha mai volato fuori dagli strati uniti perché era riservata come una macchina perché aveva i dati c'è della tecnologia veramente sofisticata ed era una macchina conus only continente di una di senza ondì bellissimo e tu facevi volarvi in base al piso eccetera e dovevi dire velocità di rinvolo velocità di stallo non stallo si installava eccetera cioè davi le prestazioni della macchina e poi alla fine tu davidati dice vediamo cosa scrive manuale di volo se coincidevano non coincidevano con quella che c'era poi si faceva la parte relativa alle qualità di volo oppure fly path stability perché hanno cambiato una volta quei velivoli standard non fly by wire si faceva la fly path stability cioè il pilota determinava se la macchina era stabile cioè diminuisce la velocità si tira indietro perché devi tenere sul muso aumenta la necessità di spingere in avanti perché corri di più la macchina come succede con le macchine anche il 747 che tu hai volato eccetera con le macchine moderne non è più così perché è il sistema dei comandi di volo fly power che compensa per queste cose per cui tu metti lì al bisogno di trim 20.000 piedi 30 40 cambi e lui mantiene sempre quella cosa lì sarangia da solo che è un aspetto importante sì per i voli lunghi ma è un aspetto che il pilota che prima sentiva sottosedere quello che si arriva non lo può più fare l'aiuto è enorme perché se tu vai a volare fare di vicini mentre cedera la macchina è molto più semplice perché la metti sul sentiero tre gradi e lei resta lì non è che devi stare attento cambia un po' di velocità va giù aumenti un po' va su no è proprio perfetto e quel tipo di passaggio tra le macchine convenzionali alle macchine del frame a volare in quel anno lì lo abbiamo fatto tutti quanti perché era era arrivato l'f16 in quel momento era arrivato l'f15 che ho fatto l'f16 che ho fatto ho volato con l'f111 che era la macchina che aveva un sistema di comandi di voli tipo quello che ha il nostro tornado e il passaggio era fatto una via di mezzo nel senso che con l'f111 col tornato l'f15 aveva una varia di sistema fra bevo e potevi volare manualmente l'f16 no l'f16 è una macchina che è neutra o instabile per cui la puoi volare tranquillamente eccetera se funziona il sistema fra bevo e potevi volare altrimenti il pilota non ce la fa perché è in contrasto allora dico una cosa in più ci siamo chiesti scusate ma perché facciamo fra bevo e adesso e non l'avamo fatto non l'ha fatto fra vent'anni fa perché i computer c'erano ancora dice risposta di un generale molto bravo un mio collega americano eccetera diceva perché a loro allora la tecnologia le ditte non erano in grado di produrre dei sistemi degli attuatori da essere così veloci nella risposta come lo richiedeva il computer in effetti l'f104 che io ho lavorato molto a una macchina che piace tantissimo piaceva tantissimo eccetera e che alla sperimentale io lo presentavo in volo facevo l'esibizione con il 104 aveva già gli attuatori piccoli ne aveva sei per ogni allettone più piccoli perché si era visto che erano più veloci nella risposta un attuatore grande l'unico è molto più letto perché c'è un'inerzia c'è più fluido e tutto quanto il resto in queste cose qui perché fra bevo guarda ha tanto successo perché tu non hai che porti l'idraulica dove sei davanti 747 dietro ma c'è il motorino lì dietro che c'è pochissimo olio idraulico e lavora lì e basta adesso addirittura fanno gli attuatori elettrici che sono si importanti lavorano bene l'avaria è abbastanza tranquilla però non è mai mai non ne hai mai uno esempio per certificare i velivoli civili 777 il 380 eccetera hanno sette computer quelle macchine lì tre fatti da una ditta tre fatti da un'altra dove gli ingegneri non si possono parlare perché se parlano l'errore fatto in una l'escrittura di un software di là lo porterebbe dall'altra parte dici fatti c'è un accordo non dico così però che se tu lavori in una ditta che fa attuatori per verificare non puoi andare in quell'altra ditta perché ti piangono più assolutamente perché potresti portare lì un baco che non comparirà mai nella vita della macchina e traslarlo in quell'altra cosa e l'ultimo è un computer proprio stupido si chiama direct link che è come l'aereo normale se io tiro su l'aereo dovrebbe salire se spingo giù l'aereo dovrebbe scendere questo è quanto giusto per avere l'ultima risorsa in caso di bisogno si trancia un cavo in comune per cui questo è il fly by wire che ha dato una cosa importantissima allora questa digressione che ho fatto per dire quello che si faceva lì le performance e poi fly path qualità di volo o fly path stability che era più che altro orientato a queste macchine e dice ti do questa macchina prova io avevo l'f111 che ho mandato ho volato parecchio e dice ma caspita questa macchina qui se io diminuisco la velocità e l'aumento supersonico e anche noi eccetera perché è la macchina più veloce su cui ho volato non posso dire via velocità ma la cosa importante perché ho firmato a suo tempo ma la cosa importante di tutto questo era che il comando era sempre fermo invece con le macchine normali se tu sei lento indietro quando corri devi sempre trimare in avanti e portarla giù e questo non lo fai più perché si arrangia il computer il quale computer non è mai stanco perché più volte si stanca voli lungo giusto il computer non si stanca mai unitamente a questo allora vedevi le viti di queste cose qui lì e qui è bello perché con il velivolo A37 facevamo le viti dritte le viti rovesse eccetera poi mi hanno messo in due soltanto dalla nostra classe uno Steve Stove che mio carissimo amico americano ed io con la 7 Corsair che è un aereo importante imbarcato della marina anche l'aeronautica che ce l'aveva e ho fatto tutte le viti io e quell'altro in telemetria allora in Italia tornato in Italia alla fine del 78 non si sapeva la telemetria più di tanto incominciava allora Marques era lì all'esperimentale che loro lavoravano in queste cose e ci stavamo perché prima c'era un registratore che se atterravi ti buttavi giù un registratore invece no il grosso vantaggio della telemetria come nella formula 1 e tutto quanto il resto è che tu in tempo reale guardi e allora cosa è successo che successivamente alla sperimentale poi anche fuori a Nermachi dove io ho lavorato fino al compimento di 65 anni di età e ancora collaboro con loro ogni tanto vai in volo col cartellino per punti che devi fare prova e dice va bene questo l'insegnere guardano sì andiamo al prossimo punto invece prima dovevi fare il volo atterrare vediamo se siamo sicuri andiamo avanti perché tu vedi esattamente se lo scatter cioè dove c'è la variazione del pennino perché scrive eccetera e oltre i limiti dice no non andare oltre oppure è dentro i limiti andiamo al prossimo punto questa è per dirla brevemente la parte che si va di 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 telemetria cioè tutto ciò che tu porti a casa dal volo che poi ti serve quando lo sviluppi per fare i manuali di volo andiamo avanti per queste cose qui a questo punto faccio una digressione semplice perché c'è qui il comandante che è stato pilota di 747 una cosa importante che io ho fatto lì che ho trovato molto interessante allora il pilota di 747 il comandante lui ha la tabella in base al peso il carico dice chiede al controllo inizio a 340 poi tra 60 380 perché consuma il peso dice saliamo saliamo il consuma carburante giusto saliamo queste tabelle qui che vanno fatte sono difficilissime da fare e anche i voli perché deve essere preciso io le ho fatte col phantom più la macchina è piccola più sono delicate dove in base al peso ti mettevi lì e poi pian piano salivi come sali perché sali sali perché ogni ala ogni macchina ha il suo design point che si chiama w w fratto delta w e weight il peso del verivo il peso del 747 fratto delta che la densità dell'aria una macchina a questo rapporto che deve essere quanto più vicino al valore di disegno per cui se tu vai in volo e vedi che consumi carburante per cui il peso diminuisse il rapporto non va più bene devi salire che la densità è più bassa così il rapporto è sempre costante ecco perché si va su così idealmente potrebbe essere una salita lentissima ma per controllo non puoi farlo per cui si inizia a livello più basso e poi si va su a gradini ma questi gradini vengono fatti tenendo questa formula da w over delta costante ecco che abbiamo spiegato l'arcano se tu guardi le macchine moderne 787 vanno tutti un po più alto perché l'ala è stata disegnata in maniera più idonea per cui il rapporto da w over delta è ottimizzato vai più alto quanto non più di tanto perché c'è un'inversione importante dopo la troppo pausa eccetera che non avresti più i vantaggi per la temperatura esempio i voli supersonici che si fanno per addestramento e anche per provare le macchine perché il 104 ogni volo prova tu andavi supersonico lo fai dove sopra la troppo pausa perché la temperatura diminuisse 6 gradi ogni mille metri di salita verso fin tanto che si stabilizza poi comincia a scendere e poi risale un'altra volta ecco tu a quella quota lì fai voli supersonici perché c'è il meno dispendio di energia la macchina è più performante e tutto quanto va avanti in questi termini decressione ancora per cui siamo nella fase penultima la fase ultima per cui questa fase qui serve per fare i manuali di volo di tutte le macchine civili e militari perché si faceva al 130 quando ero la io stavano sviluppando il c17 quella bellissima macchina era proprio negli hangar lì di fronte che era in competizione con yc-17 e yc 15 queste due macchine e la cosa importante per tutte le macchine per il 747 il triple 7 che secondo me l'ho volato è una macchina bellissima il 777 e il 767 che anche se vecchiotta però è validissima noi ce l'abbiamo in forza armata come gli italiani eccetera ed è una cosa bellissima perché la macchina semplice e consente ai piloti anche se stanchi andare tranquilli ha un atterraggio con vento attraverso fantastico perché tu puoi tirare tu l'hai volato e lo sai tu atterri con l'autopilota 35 nodi attraverso è stato provato capito 35 nodi attraverso provato tu non puoi poi dire a mettermi un nodo di volo se superi a 25 nodi ti fermi perché questi sono i limiti che vai perché se non vai a fare disastri in aeroporto uno davanti riattacca tu atterri e quell'altro riattacca ma come è possibile non è la barbucola del piloto è il velivolo che consente di fare le cose però deve essere uguale per tutti come la velocità di avvicinamento deve essere uguale per tutti se no se uno va a 109 l'altro va giù a 135 quello che è ti impacchetti male capisci mentre la cosa importante a tenere presente è sempre la scia perché noi facciamo le prove anche per le scie vedere quei fumi come andare e da ricordarsi che la scia è una cosa pazzesca più stare attenti il 380 oggi ha una scia che dà fastidio anche 747 da fastidio in 380 380 da fastidio l'altro 380 dietro la 6 media che se tu la becchi tutta con tutta quanta barra fai fatica a tenerlo dritto perché è enorme da ricordarsi che la scia va sempre verso il basso in avvicinamento ti dà fastidio se c'è calma di vento vento attraverso te la porta via ma se calma di vento il distanziamento tra un velivolo e l'altro in funzione della classe di peso eccetera è una cosa che il controllo editore deve stare attento a farlo bene perché lui chi vola non sa quanto davanti quell'altro come sono le condizioni vento novento tutto quanto il resto specialmente con caldo abbiamo fatto questa parentesi qui andiamo a vedere l'ultima fase che si chiamava fase di system e questa qui abbraccia un po tutto andiamo dei sistemi di navigazione ai sistemi di avvicinamento l'attereggi automatici il ticas che allora si studiava e tutto quanto il resto che adesso è una cosa senza il quale non si andrebbe per aria giusto ma si faceva lo studio con queste qui con le macchine a capire qual era l'algoritmo che ti consentiva dice chi è che do il comando di salire e accendere tu stai livellato su quell'altro oppure uno su uno va giù cioè c'era da tenere in considerazione e metterlo dentro il computer dice no facciamo cambiare soltanto uno perché se cambiano in due due variabili come risolve la matematica x y invece soltanto x che diventa più difficile no ecco che si parlava di sistemi se andiamo in un settore diverso per il settore della difesa tutto quanto resto era importante vedere quello che c'era allora a disposizione per poter identificare quello che erano gli elementi interessanti di teatro o di altre cose per poterlo vedere perché chi prima vede e mediovele ha una carta un asso nella manica insomma per poter gestire la cosa e da lì sono nate molte cose le cose vecchie le dico perché adesso neanche più si gestiscono era lo light level tv cioè tu vedevi di notte con l'infrarosso eccetera a bassa quota io lo facevo il mojave desert gli animali tutto quanto il resto poi in italia si vedevano con i pod idoni eccetera le strisce bianche di notte dell'autostrada perché c'era una differenza di temperatura tra la striscia bianca e l'asfalto circostante che tu vedevi esattamente ecco siamo lineati con la strada e tutto quanto resta da questo voi potete immaginare quanto siamo andati lontani lo stesso comparivano allora i primi gps e c'era un interesse enorme e gps ci ha rivoluzionato perché con l'f 104 noi avevamo le piattaforme inerziali la litone ln3 pensatevi quanto era poi sono andati avanti 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 e il jumbo se ricordo male aveva tre piattaforme giusto c'era una che lavorava una è stand by quella che lavora e quell'altra è accesa nel caso che la prima andassi in avaria per andare avanti ed era un passo avanti notevole che ti facilitava perché dall'area qui l'america sei un conto arrivare in america che sei presente contro lì stanco che ti perdi di qua dirà di su di giù il vento perché non c'è un volo da qui all'america ritorno che non abbia vento da una parte e dall'altra per cui abbiamo fatto tutto l'escursus di systems in quello che era lo scibio molti sistemi non li dico e non mi ricordo e tutto quanto il resto però da questo ci ha portato ad avere come concetto generale che una volta servivano 24 gi 91 per fare delle operazioni particolari le stesse operazioni il 104 si faceva con quattro velivoli adesso con i velivoli che abbiamo oggi un velivolo fa quattro volte i target che facevano gli altri per cui cosa è successo anche è successo che le singole forze armate hanno bisogno di molti meno piloti in termine italiano giusto di aver piloti in meno che cosa ha comportato questo guardate che non soltanto l'italia ma per il quale il paese crea un bene importante da dare alla vita civile ma in tutti i paesi c'è una carenza pazzesca pazzesca di piloti diventare piloti non è facile è una attività molto bella per l'amore di dio molto difficile tu devi avere una forza di volontà pazzesca ferre andare avanti una condotta di vita importante tu non è che puoi divertirti andare a ballare fino a tre le notte e poi volare la mattina delle sette e vai in volo no perché faresti male a te stesso tutti gli altri e tutti i tuoi cari la cosa importante di tutto questo oggi abbiamo che le forze armate invece di fare 100 piloti all'anno ne fanno 40 all'anno e questo una volta c'era le aliquide di piloti di complemento e un po anche di quelli dell'accademia che andavano verso le linee aeree civile e questa era una ricchezza importante e un vantaggio che si dava al sistema paese creando senza scopo di lucro in forza armata dei piloti fantastici abbiamo qui presente il comandante ruffini che ha fatto questo percorso e lui sa quanto sia importante adesso non è più così e ci crea un grosso problema perché guardate che dappertutto c'è carenza di piloti anche perché mi chiamavano la settimana scorsa i miei amici di paesi stranieri dice che non hai qualche pilota che vorrebbe venire a volare da noi e non lo trovi non lo trovi anche perché devo dire che le singole forze armate compreso che la nostra sicuramente eccetera hanno dei mezzi che sono fantastici perché una volta eri un po a traino sai andavi in giro con l'indb quando c'era il volo io che sono stato il progetto pilot dell'M346 e tutto il resto ho detto il primo volo del velivolo prototipo che ho fatto il 15 di luglio del 2004 avevo a bordo voli e l'esse funzionante proiettato in HOD perché così tu devi volare perché è sicuro per te per correttezza dentro gli altri velivoli e perché il sistema che ti controlla deve sapere esattamente quello che stai facendo questo ho fatto l'escurso la mia vita allora torno a casa da Edwards e vi ho descritto Edwards la sperimentale ho lavorato con macchine bellissime sono andato all'estero a fare attività di volo perché c'era uno scambio un po con tutti quanti e che devo dire sono stato fortunatissimo perché sono entrato in fase alla sperimentale con l'arrivo del G222 per cui abbiamo fatto i passaggi ai piloti di Pisa in contemporanea stava arrivando si chiamava MRCA75 che poi si è chiamato Tornado che è arrivato allora io ho fatto il corso Tornado e ho fatto tutta l'attività lì al Prato Sumentale col Tornado e ho fatto la citazione dei primi 17 velivoli dell'aeronautica tant'è vero che hanno fatto il quarantesimo a Ghedi sono stato andato lì a Ghedi perché era bello vedere che le prime macchine diciamo le ho fatte i voli io eccetera non c'era ancora a Cottesburg il corso sono andato a farlo in Germania a Ottiburum e l'altra a Monaco lì al centro della SG che ci faceva la parte di airframe e gun e avionica perché la parte avionica fra le bovare eccetera era tutta una cosa nuova che per me era semplice perché l'avevo fatto in America anzi gli davo qualche input in più poi sono stato project pilot della MX dopodiché lì ho volato con tutte le macchine si faceva il capo servizio all'addestramento tutte queste cose qui e mi hanno fatto scuola di riguardo da tenente colonnello e mi hanno mandato a fare comando di gruppo perché era un passaggio obbligato per poter essere promossi a grado di colonnello giù a Trapani dove la loro capo di stato maggiore mi ha detto Cecconello vai giù lì che devi mettere in piedi perché non c'era un gruppo operativo a Trapani e ho messo in piedi il diciottesimo gruppo poi è nato il trentasettesimo stormo ed è stata un'esperienza per me importantissima bellissima eccetera perché avevo le dipendenze oltre ai piloti anche un numero consistente circa 156 persone se mi ricordo i numeri che dipendevano direttamente da me come andati di gruppo perché il CM che non era fatto ma era tale dipendeva da me e mi piaceva è stata un'attività molto importante che mi ha aperto mi ha messo in contatto con molti ingegneri con le macchine i più anziani dei tecnici dei tenenti colonnelli di complemento Garat e Gary Garat significa genero aeronautico con loro assistenti tecnici oppure Gary come Marques che è la parte relativa agli ingegneri dove ci sono imparate molte cose esperienze che poi ho portato nella ditta quando sono uscito di concerto con la forza armata per fare il pilota con il dottore fuori voi mi direte perché questa cosa perché in Italia non c'è nell'ambito della forza armata non c'è nell'ambito dell'università nessuno che qualifichi il pilota con il dottore sperimentatore e allora anche il flight test engineer adesso si fa un po' si riesce a fare meglio da parte del flight test engineer però è una parte importante però tramite un accordo interministeriale viene riconosciuto il brevetto o la qualifica di experimental test pilot e flight test engineer riconoscendo i documenti prodotti da l'USAF per Edwards Pataxen River per la Marina Bosco Ondao in Inghilterra per la Royal Air Force e Eastlid Tube in Francia che è l'unica civile perché lo fanno gli ingegneri sperimentatori e i piloti quello dei tuoi sperimentatori si chiama pilota Seamvold lì proprio a Eastlid l'Italia ancora oggi che parliamo non si è dotata di una cosa genere perché prima di tutto è costosissimo tu devi avere poi qualcuno che ti alimenta perché io non so quanto è costato il mio corso però da un punto di vista è un sostegno importante notare che l'aliquota che noi mandiamo ogni anno in America o dove c'è a fare la scuola è uno o due piloti all'anno non di più per cui tu non puoi mettere su un sistema che gravita attorno a 50-60 persone a fare questo computer tutto il resto premetto in America arrivati lì mandato le chiavi dice questa è la chiave della sala computer io guardo così perché il computer lavorava giorno e notte io vedevo i miei turni dice Capitan Cecconello alle 3 di mattina dove era tutto avrebbe il computer per due ore perché tu dovevi lavorare giorno e notte l'America devo dire con i propri pregi i propri difetti ma ci ha insegnato la standardizzazione ci ha insegnato il metodo ci ha insegnato a essere scrupolosi al 100% nell'osservanza di manuali di volo cioè il velivolo vola come scritto nel manuale se tu inventi inventi in modo strano come farti male cosa ho fatto nella mia vita ho fatto 9300 ore di volo la maggior parte dei quali tutti i convenivideri militari ne avrò fatte 1300 diciamo tra 300 con gli elicotteri perché alla sperimentale avevamo quegli elicotteri per cui facevamo c'era il pilota che ha fatto il corso come elicotterista a Pataxe in Francia qualche volta ha bisogno di un co-pilot per cui andiamo anche noi insieme con loro e ho volato su macchine belle la KH3F e anche due o tre voli sul Chinook il CH47 che è un bellissimo elicottero una macchina interessantissima bella ti dà proprio un'idea di potenza eccetera poi ho volato per dire col 222 col 130 H che facciamo i voli giù con la sacca di brindisi io ho fatto 130 anche in America l'H stesso per cui ero avvantaggiato ho fatto dei voli con l'S2F assieme a un pilota con l'autore che mancava un co-pilota che non voleva andare nessuno perché era rischioso perché l'S2F era l'unico che aveva i comandi in senso contrario tu tiravi indietro perché così perché sulla catapulta la portaerei per inerzia avresti tirato dietro le maniglie allora tu davi il motore e ti danno dietro catapulta e il motore era tutta potenza se fossi stato avanti come spingere con l'inerzia potevi tirare dietro le mani cioè queste piccolezze che tu non ci pensi però ho fatto i voli con l'S2F altre cose interessanti sempre a Edwards che dovevi conoscere un po' tutto siamo stati imbarcati per tre giorni a bordo del Pacifico con la USS Ranger siamo andati lì per vedere gli appontaggi con i primi velivoli che avevano con il piacimento Flybauer per vedere se venivano meglio o peggio li guardavamo da fuori proprio per vederli fisicamente ed è stata un'esperienza interessante io sono potevo scegliere se andare giù facendo l'atterraggio su porta aerei o andare via con l'elicottero atterraggio su porta aerei e mi è piaciuto tantissimo perché quando mi hanno poi intervistato dice che cosa hai notato ho notato che proprio in cortissimo finale quando stai per toccare c'è una turbolenza pazzesca io dico ma come mai però tu la macchina la buttisci su ed è si chiama island cioè sulla porta aerei c'è l' island c'è la palazzina a comando diciamo quello che che crea turbolenza perché quando tu atteri è angolato il ponte dell'atterraggio perché se tu non prendi vai via e non vai a interferire con chi decolla che va via dritto e allora questo qui ti dà quel tantino di turbolenza ma te la dà e stai a toccare per terra e poi interessante io sono stato di notte perché era il mio turno con l'LSO che è il landing supervisor officer che è una specie di pistola con le luci che se vede l'area troppo basso spara qui o gli dà rosso per andare in go around e mi diceva questo qui dice vedi qui se qualcuno sbaglia c'è una rete sotto 4 metri per 4 che noi dobbiamo tuffarci su una rete dove c'è nero pesto che è sopra l'acqua perché se qualcuno sbagliava e vi assicuro che di notte essere lì tutta la schiuma che si intravedeva io vedo che non sono capaci di notare più di tanto tutto il resto dico era una prova di volontà non indifferente però un'esperienza fantastica che mi ricordo come fosse adesso e questo abbiamo fatto a largo di San Diego è stato fuori un 150 miglia con questa se guardate USS Ranger che è stata forse sarà dismessa adesso ma bellissima porta aerei e molti non riuscivano ad alterare perché venivano con gli A7 con gli S3 e l'inizio di qualche F18 e roba del genere e perché facevano prima un tachengo intenzionale senza gancio poi mettevano sul gancio e facevano l'appuntaggio e tanti andavano un po' più lunghi e non agganciavano perché facevano un'altra volta dice San Diego e li mandavano ad alterare su terra e è bello vedere le operazioni su porta aerei perché che non voglio neanche mettermi a discutere e a descrivere perché sarei impreciso ma la cosa importante in porta aerei tanto di cappello perché sono veramente persone che volontà attività importantissima veramente professional tutti quanti e dura perché non c'è sabato domenica lavorano sempre però i piloti siccome dopo un po' cominciano a tremare fanno turn around stanno lì massimo sei mesi non possono stare più di sei mesi perché c'è un praticamento anche psicologico importante che bisogna cercare di evitare che avvenga bisogna ricordare che lì atterraggio su porta aerei non viene fatto con l'allievo e il pilota istitutore no l'allievo da solo perché l'istitutore dice io non ci vado giù tu atterri sulla pista diciamo che altre piste io so tante volte tu vai giù è disegnata la porta aerei e tu tocchi lì tocchi lì poi vai sulla porta aerei e fai touch and go io ho provato un salone poco tempo fa che c'è il simulatore perché ho volato con mio carissimo amico Riccardo Treven che lui con l'F18 e agli amici che ce l'ho portato eccetera e tu vai giù che atterri diciamo le macchine giù a 130 nodi quello che è hanno una flypast ability eccezionale perché tu lo metti lì e proprio resta lì c'è le luci tipo il papi o il vasi sai quelle luci vai giù e si chiama fanella lamps ci sono verde verde e quelli in centro che si spostano per cui tu la tieni su così davanti sul rotino c'è la luce che l'LS o quello che dicevo prima l'ending supervisor le vede che lui dice guarda che sei sotto o sopra anche lì e vai giù con questo e tu tocchi giusto non devi richiamare l'unico vantaggio è questo tu con la macchina di supportare non devi richiamare perché è fatto in maniera tale l'amortizzatore eccetera cosa ho detto abbastanza adesso possiamo interrompere un secondo sì io non avevo mai pensato di andare via dall'aeronautica ero messo bene in accademia mi piaceva il mio lavoro mi piaceva molto l'aeronautica come ancora adesso amo perché io vengo giù quando posso perché tutti i miei amici sono nella forza armata e mi ricordo che la ditta Remacchi aveva bisogno di un pilota collodatore perché il comandante Bonazzi stava lasciando e hanno chiesto la forza armata abbiamo bisogno di un pilota collodatore perché le ditte quando chiedevano alla forza armata la forza armata ha risposto allora noi forza armata addestriamo anche una aliquota di piloti collodatori sperimentatori e di flight test in genia sufficiente anche da soddisfare eventualmente le esigenze della ditta che fanno un lavoro importante perché facciamo un esempio la ditta come fi meccanica loro oggi Leonardo impiega 56 mila persone soltanto in Italia sono 32 mila persone che lavorano per cui è un asset industriale non importante e i collodatori sono quanti sono 4 o 5 nella parte della fissa 5 o 6 nella parte dell'elicoteri questi sono i numeri perché tutto il fatturato velivoristico elicotelistico passa da lì perché tu pilota quello dottore della ditta quando voli per la ricerca e sviluppo sicuramente ma quando produci tu voli con la macchina che è pronta per consegnare fin tanto che la macchina va male perché quando va bene tu non funzioni più tu dici atterri velivolo o k benissimo si presenta il collaudo e lo vengono a ritirare capito il concetto di base e non c'è nessun velivolo che al primo volo vada benissimo c'è un po' questo c'è un po' quello c'è il pitot balla non balla eccetera qualche volta c'è i problemi poco seri anche problemi più seri però devi sempre gestirteli e allora in quest'ottica io avevo terminato il comando di gruppo giù a trapani promosso grado di colonnello venuto ero stato trasferito non mi ricordo neanche più esattamente credo ma quarto o regione non mi ricordo più e perché un conto era la carta ufficiale un conto era le chiacchiere mi ha chiamato il loro capo di stato maggiore generale Cottone con tramite l'aiutante che era Emilio Biasin dicendo se avrei accettato di andare a fare pilota coduttore per la di Termachi ho pensato un attimo ho fatto un ragionamento ho detto sì di qua di là di giù ho sofferto molto è stata una decisione molto sofferta e ho detto di sì e sono andato fuori quando ho dato le dimissioni a quando sono andato fuori sono passate due settimane perché avevano fretta e perché mi hanno mandato lì perché io ero project pilot dell'AMX in forza armata e sono andato lì per volare con l'AMX adesso mi rialaccio magari vi tedio un po' con questi miei discorsi però ho cominciato subito a volare con l'AMX e sono stato l'unico pilota con l'autore spermatore che ho fatto tutte le viti con l'AMX che erano molto simili a quella 7 Corsair che vi ricordate ho detto prima perché l'ala è più o meno la stessa eccetera e ho fatto le viti tutte quante con l'ala piena una vuota con missili senza missili eccetera le ho fatte io tutti al 90% alcune le ha fatte il comandante calzoni ma pochissime e della forza armata il generale Molteni Fabio che posso dire perché era lui devo dire che è stato lui le due persone sono io e Fabio Molteni che mi hanno fatto le viti con l'AMX abbiamo fatto il manuale di volo scritto le cose da fare in caso che inavvertitamente tu vada in vite basta che fai questo e l'aero si rimetteva sempre e aveva e dà perché è ancora in servizio una messa delle vite che è eccezionale non abbiamo avuto nessun problema di questa natura per quanto riguarda l'AMX una macchina che proprio vola bene e sta avendo ottimi risultati adesso ormai ha la sua età perché l'AMX ha fatto i primi voli nel 1985 mi posso sbagliare se è fino al 1984 o al 1985 questo è quanto diciamo interessante arriva un'ermacchi e tutto quanto il resto tutte le ditte tutte fanno ricerca sviluppo stavano cercando di avere un sostituto del 339 si guardava avanti eccetera e qui dico una cosa nel misto tra politica e non politica ma io non ho mai fatto politica in vita mia devo dire che ci sono stati due presidenti illuminati uno Reagan e l'altro Gorbaciov che si sono messi insieme che io dicevo è scoppiata la pace perché ha detto tira giù quel muro di Berlino di qua di là di giù in seguito a questi accordi cosa è successo che tutte le nazioni western diciamo si sono messe d'accordo insieme eccetera di vedere come aiutare la Russia a risolvere dal punto di vista tecnologico quella che era un po' la loro arretratezza da un punto di vista generale specialmente nei campi aeronautici che io non conoscevo ma anche nell'agricoltura le macchine agricole queste cose qui in questo contesto l'Italia è stata leading nation per quanto riguarda l'addestramento che si interfacciava con Mosca e l'Air Macchi che era allora una dita privata leading company per l'addestramento sempre che si interfacciava con Mosca io che ero arrivato da pochissimo andavo su a Mosca a fare le riunioni gli accordi di Reagan e Gorbaciov se non ricordo male ma controllate sono stati fatte nel 1989 nel caso sia 89 sono iniziati questi accordi sia per l'Italia che per la Francia stiamo facendo la stessa cosa la faccio molto breve la Russia aveva sviluppato un prototipo che ha fatto pochissimi voli lo IAC 130 la Francia c'era di mezzo un velivolo della Mikoyan il MIG AT volavamo tutti quanti io andavo sempre in saloni per cui mi interfacciavo parlavo con i miei amici francesi eccetera e sono andato su a Mosca andavo su spesso fin tanto che dopo le varie riunioni di qua di là di su di giù ho incominciato andando su a volare e con lo IAC 130 sono l'unico pilota italiano che ha volato ho fatto 103 voli sono andato in salone internazionale con l'IAC 130 abbiamo implementato delle modifiche abbiamo fatto gli accordi commerciali con la Russia da questo è nato successivamente l'M346 che non è lo IAC 130 da un punto di vista aerodinamico abbiamo attinto qualche cosa che sono bravi sistemi niente motori niente perché loro col velivolo che si chiama ancora IAC 130 hanno mantenuto quello che è la tecnica la tecnologia ma anche il modo di addestramento dei piloti esempio io volavo con la Clos aveva anche il freno tipo i vecchi velivoli inglesi che tu frenavi con il freno come la bicicletta sulla Clos e poi dirigevi la frenata con la pedaliera frenavi di più ruota sinistra destra muovendo pedaliere più a sinistra o più a destra e l'altra cosa importante che per me era una cosa irrinunciabile loro la quota in metri noi in piedi chilometri all'ora e noi in nodi dove dicevo posso accettare i chilometri all'ora ma non la quota perché tu fai hai tre volte di più l'errore rispetto ai piedi perché un metro è un metro un metro in piedi sono tre piedi e tu vedi come gira l'altimetro che ti dà un'idea di quanto rapidamente stai scendendo o salendo è capito è come il bariometro un conto è mille piedi al minuto un conto è 300 piedi al minuto che non fa niente capito e tutti questi aspetti qui dove io mi sono anche scontrato con loro in maniera sempre molto educata e tutto quanto il resto dove mi dice alt si fermi si riudivano fuori da Giucoschi io volavo a Giucoschi che è del reparto sperimentale entrano da dentro e diceva comandante secondario va bene può andare avanti e ho detto guardate che io non vi faccio le critiche perché ma perché il nostro mondo occidentale se noi abbiamo una macchina che funziona bene eccetera è commerciabile è proponibile se invece dobbiamo prendere la macchina e modificarla tutto perché non si può trovare indietro non si può fare nulla e così è fatto l'M346 che io sono il project pilot e poi vi dico un'altra cosa ricordatemi se mi dimentico sono il project pilot sono felice cioè è una macchina che oggi abbiamo già venduti dico abbiamo l'azienda venduti circa 110 macchine e ancora sta andando ed è una macchina validissima e là è stata acquistata da paesi primo Singapore secondo Israele la Polonia chi è in giro mi sfugge adesso così su due piedi però tantissime macchine e l'Italia ha messo in piedi a decimo anno la International Flight Training School dove noi italiani che da sempre e tu ricordi il comandante abbiamo avuto una buona idea per l'addestramento addestriamo a decimo anno piloti tedeschi anche inglesi che è una cosa mai viene nominata magari non so neanche se si può dire però si addestrano lì e piloti stranieri oltre alle italiane eccetera ed è fatta con il concetto che c'era in America e mi spiego meglio gli esaminatori e quelli che sono dedicati alla standardizzazione sono piloti della forza armata gli istruttori sono ex militari che sono andati lì e fanno il lavoro come se fossero degli istruttori civili ecco che si è raggiunto una sinergia importante come sistema paese questo è un modo poi mi ero dimenticato di dire qualche cosa che ho detto ricordatemi poi bravissimo la cosa importante che avevo imparato in America nel 78 e poi parlavo con gli altri in America nessun velivolo viene portato avanti dalla fase di progetto senza avere un pilota nel loop di progetto tu devi sempre avere qualcuno pilota con il dottore spiegatore nel loop di progetto perché faccio il ragionamento per assurdo il volantino lo metto qui non lo metto di dietro come concetto ecco noi abbiamo avuto all'inizio e non dico l'azienda ma un'azienda molto importante che costruisce i velivoli dove all'inizio i nostri piloti dell'Italia che erano comandati il 19 avevano difficoltà a gestire questa macchina qui cioè alinate non riuscivano ad andare in pista perché non era selezionato il modo tale il modo per cui poter decollare mi rivolgo all'inizio delle macchine importanti che avevano il side stick da civile e lì se tu ti incasini per aria la cosa importante cosa succede che l'aereo che ha una logica fantastica ma è stupido se tu non dai il comando giusto non fa niente quante volte sono riattaccati alinate a malpensa facevano gli LS e andavano alle minime e quelli li attaccavano perché non avevi disinserito il modo per cui il glider era in avaria e tu non l'avevi disinserito la macchina la ragiona con la sua testa che è più sicuro ecco allora che il pilota nel loop dice guardate che se abbiamo questo e va giù l'autopilota deve farlo atterrare cioè sei tu che devi dirgli schiacci il pulsante per il go around questi aspetti qui sono molto importanti io ho insistito nella ditta dove ho sempre lavorato c'è stato un pilota nel loop io ero nel loop e l'ingegnere Lucchesini che era il progettista d'aereo insieme decideranno sempre le cose da fare lui per la parte importante diceva guarda vorrei fare questo dicevo guarda che per il volo ci vuole questo quest'altro è sbagliato fare questo non devo fare quell'altro perché se tu fai questo risparmi un sacco di tempo perché i piloti che sono gente strana ma sono tutti uguali perché la pista è sempre lì si decolla e si atterra sempre al stesso modo il vento attraverso c'è per tutti quanti la nebbia c'è per tutti e va via ultima cosa guardate che la nebbia oggi come oggi dice c'è nebbia è il lateraggio più sicuro perché abbiamo degli LS in categoria 3B e tutto il resto e la nebbia quando esiste quando c'è calma di vento per cui l'autopilotta va giù che è un piacere lui non sa che c'è la nebbia e ti tocca in centropista che è un piacere dico bene comandante se invece tu atteri con 25 nodi attraverso gasti 35 tu ci provi e stai lì però anche lì le prove con gli sterrieri si fanno per aria per determinare il vento attraverso ecco io ho fatto con la MX tutti i venti attraversi con le varie configurazioni a decimo mano cioè io ero l'unico fessacchioto che aspettavo lì che chiudessero la base per vento attraverso io andavo in volo con vento attraverso e provavo perché quello che io provo come limite come concludatore poi devi mettere uno scatter factor che lo metti perché il pilota medio che vola deve essere in grado di tirare anche lui senza avere problemi questo è quanto attraverso